Emanuele Aloi ha testimoniato in maniera nitida e vivida con il suo sacrificio insieme ad altri quattro colleghi che negare al cancro sociale ed etico della mafia il suo consenso è stato vincente e da allora lo Stato che lei ha servito con diligenza, onore e coraggio ha vinto perché le nostre coscienze da quel giorno, le nostre anime inquiete si sono ribellate Emanuele Aloi è stata la prima donna agente della Polizia di Stato a perdere la vita per mano della mafia nella strage di Via D'Amelio a Palermo in cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino Il comune di Belluno nella mattinata di mercoledì 20 marzo ha voluto intitolarle un piazzale in località Levego nella futura zona industriale Alla presenza del questore di Belluno, del prefetto, del vescovo e delle massime autorità civili, militari e religiose si è svolta una cerimonia toccante che ha visto anche la partecipazione di 50 giovani aspiranti agenti della Polizia di Stato che si stanno formando a Trieste, città dove aveva studiato anche Emanuela C'è stato un qualcosa che secondo me è conciso nel momento in cui lei ha giurato ha giurato fedeltà, fedeltà alle leggi della Repubblica, alla Costituzione ma soprattutto una fedeltà verso se stessa cioè quella di fare il proprio dovere come agente di Polizia fare il proprio dovere vuol dire spesso farlo anche a costo di quelli che possono essere sacrifici in mani, immensi come è successo a lei Dopo lo scoprimento della targa, le autorità hanno raggiunto il teatro di Inobuzzatti gremito di studenti per ripercorrere i tragici fatti del 19 luglio 1992 ed ascoltare le parole della sorella di Emanuela che ha inviato una lettera di ringraziamento non potendo essere presente alla cerimonia Il pubblico ha infine assistito a un commovente monologo di Anna Olivier che ha raccontato dal punto di vista di Emanuela stessa i ricordi legati a quel giorno tragico in cui perse la vita Nel ricordare Emanuela Loi vogliamo ricordare anche tutte le vittime delle mafia affinché possano rivivere con noi e dentro di noi per i più giovani per non farci mai stancare di combattere, di contrastare l'illegalità per cementare ancora di più nelle nostre coscienze nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro e nella società i valori fondanti della nostra Costituzione Grazie a tutti